Ciao a tutti! Oggi prepareremo il budino al cioccolato bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono latte, cioccolato bianco, latte condensato, estratto di vaniglia, tuorli e gelatina in fogli ammollata in acqua fredda. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato bianco e lo facciamo a tritare per 5 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte condensato, l'estratto di vaniglia, il latte e i tuorli. Ad azionare il bimbi per 12 minuti, 90 gradi, velocità 4. Aggiungere la gelatina ben strizzata ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Trasferire il composto in uno stampo per budino da un litro o in stampini monoporzione. Lasciare intiepitire e riporre in frigo per almeno 4-5 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il budino, sformare e servire. Budino al cioccolato bianco. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!